è davvero tantissimo e se si pensa che appunto l'America scappa Assegawa si arriva la palla passa diventa 4 per Tau già 5 buono palone in mezzo Assegawa, Assegawa arriva la diagonale fondamentale di Ruschia da anticipare Assegawa che se non si sarà rappresentata a 2 per 2 per 1 a 1,000 arti